Una bella e inaspettata novità l'abbiamo trovata proprio qui nello stand di Moto Morini con la X-Cape, vedete un bicilindrico fronte marcia da 649 cm3 che dovrebbe essere quello di CFMoto però questa è un'indiscrezione che insomma abbiamo pensato noi, una riflessione che abbiamo fatto noi Bel motore però, sta inserito molto bene in questa crossover e se il motore di cui parliamo dovremmo avere intorno ai 70-71 cavalli di potenza, molto bello ovviamente un prototipo tra l'altro, è un prototipo che promette molto bene, anche il logo così mi è piaciuto moltissimo una carina che forse ricorda qualcosa che è già visto in giro però per il resto devo dire che la moto è abbastanza originale avete visto anche il disegno dei fari, quindi X-Cape 650 rilancia questo marchio così importante speriamo che possa essere molto di più che un prototipo è una proposta interessante per questo segmento, tra l'altro abbiamo sentito che il prezzo non dovrebbe superare gli 8.000 euro quindi veramente sarebbe una spina nel fianco a tanti altri competitor e il motore di questa X-Cape è equipaggiato anche per la 6.5 qui invece stiamo vedendo la Super Scramble con il motore 1.2 che deriva da questa moto qua la Corsaro che sicuramente rappresenta il modello più amato del marchio Moto Morini